Buongiorno da Attilio Scarpellini al microfono, da Federico Capitoni a cui do il bentornato in regia alle scelte musicali, da Marco Azzorie alla console, sono le 6, 1 minuto e 17 secondi di martedì 13 marzo 2018 e siete di nuovo all'ascolto di qui comincia la trasmissione che ogni mattina apre la programmazione di Radio 3 Rai con le sue musiche, le sue storie e le sue immagini che ci accompagnerà fino a Radio 3 Street grazie alle vostre indicazioni musicali sia movimento, parola attualissima e anche lontanissima del lessico politico occidentale perché oggi tutti vogliono essere o fare movimento, il movimento è fluido, performante in qualche modo anche comodo, nessuno invece vuole più ristagnare in partito. Ma c'è stato un tempo, un tempo peraltro non lontanissimo in cui chi si opponeva alla conservazione si raccoglieva in un parti de mouvement, in un partito del movimento e diciamo esistono movimenti di ogni tipo, non solo politici. Prima che i movimenti si cristallizzano in una qualche istituzione diventino anch'essi accademia e il fotografo di cui parliamo oggi, non migliori, si è mosso nella seconda parte del Novecento soprattutto tra due opposte tendenze, tra due opposti movimenti dell'arte visiva. Da una parte la documentazione e il realismo e dall'altra invece la forma e l'astrazione e questo equilibrio che è anche poi in fondo una doppiezza viene raccontato in un bel libro dallo storico della fotografia Roberto Maggiori che è una monografia edita da Quinlan, Nino Migliori, 70 anni di fotografia e arti visive. Noi cominciamo da una fotografia in bianco e nero scattata negli anni 50 nell'Italia del Sud, la nostra però è un'immagine, è l'immagine di un movimento immobile. C'è una porta aperta su un muro con le ante di legno spalancate, c'è un uomo seduto proprio in bilico sull'ingresso, sta seduto di traverso su una sedia impagliata, legge il giornale con la faccia quasi attaccata al foglio e ai lati sulla strada ognuno davanti ad un'anta siedono due vecchi, uno con il cappello a falde larghe calato sugli occhi, guarda verso l'obiettivo con grave perplessità. L'altro invece di profilo è impassibile, con le mani giunte sta ruminando. Chissà quali pensieri. L'aria è quella di un'osteria dove gli anziani del paese trascorrono pigramente la giornata, ma sull'arco della porta c'è un'insegna bianca con una scritta nera in stampatello e la scritta dice Partito Socialista Italiano, poi più in piccolo sezione di Barile. E proprio per non sbagliarsi, ai due lati dell'insegna, quasi perpendicolari sulla testa dei due vecchi seduti, spiccano i simboli del partito, la falce e il martello sul libro aperto. Ecco, Barile lo siamo andati a cercare, è un comune in provincia di Potenza dove si parla l'Albreche, la lingua della comunità greco-albanese. L'anno della fotografia è il lontano 1956 e la sonnolenza che pervade l'immagine è politicamente del tutto ingiustificata perché quello è l'annus terribilis della crisi di Suez e dell'ottobre ungherese, ma a dispetto delle falci e martello Barile o Barilli, come lo chiamano gli Albreche, è lontano dalla storia e lo era ieri quanto lo è oggi. Questa fotografia, realizzata da Nino Migliori, spunta da un bel libro, un libro di Roberto Maggiori, dedicato ai 70 anni di sperimentazione nella fotografia e nelle arti visive di questo artista bolognese, che pur non essendo mai stato un reporter, un fotogiornalista, sapeva come raccontare con la macchina fotografica. Ecco, guardandola bene se ne percepiscono le simmetrie estremamente precise e anche la teatralità nell'inquadratura. Infatti c'è un'altra inquadratura che è formata dall'ingresso del locale e a sua volta all'interno c'è un'altra ancora perché appeso alla parete di quella che continua a sembrare un'osteria, mentre una sezione del PSI c'è uno specchio rettangolare e davanti allo specchio la sagoma di un gallo che potrebbe e non potrebbe essere vero, cioè vivo. Ma il dato più invincibile oggi è la malinconia che emana da quella scritta, che sembra già vecchia, nel 1956. Nessun simbolo, nessun segno, nessuna intestazione infatti delle antiche o vecchie culture politiche della prima repubblica sono sopravvissute nella terza e non soltanto quelle legate alla parola ottocentesca, socialismo. Ecco, chissà per chi ha votato il 4 marzo scorso Barile o Barilli. La fotografia però ha questo potere di reviviscenza che cambia con il volgere dei tempi. Ieri credevamo di vedere una cosa, oggi ne vediamo già un'altra. Il re Antonio Migliori, detto Nino, era uno di quei fotografi profondamente consapevoli di questa qualità dell'immagine riprodotta, di scrivere e di riscrivere il tempo condensandone la luce in un unico momento. Come altri basta pensare a Mario Giacomelli o Gianni Berengo Gardin. Anche lui partì alla ricerca di un'Italia su cui il fascismo aveva esercitato una censura non solo politica, ma anche visiva, lo aveva in qualche modo nascosto il paese, aveva fatto vedere solo quello che si doveva vedere e appunto anche Migliori seguì la pista neorealista, la pista del viaggio o nel paese profondo del viaggio in Italia. Ma diversamente da altri, come spiega Maggiori nel suo libro Nino Migliori, 70 anni di fotografie artivisive che è pubblicato dall'edizione Queenland, l'esplorazione tra le genti del paese, gente del sud, gente del delta, gente dell'Emilia, sono i titoli dei libri di immagini di Nino Migliori, per il fotografo bolognese fu l'occasione ulteriore per continuare a sperimentare quel rinnovamento del linguaggio fotografico che dal 1948 fino ad oggi praticamente non si è mai interrotto, ecco basta girare, basta sfogliare il libro e ci si imbatte in immagini ben diverse, ad esempio in una delle sue ossidazioni che è datata 1953 o nei suoi idrogrammi l'anno del 1952 e sono foto astratte, materiche che hanno una visibile parentela con i quadri degli artisti informali come Emilio Vedova. Ecco, il fotografo che nei muri di manifesti strappati vede delle composizioni policrome degne dell'espressionismo astratto, l'artista che incide la lastra della Polaroid prima che si impressioni e che dal suo lavoro off camera sulla superficie fotografica ottiene visioni che ricordano la pittura di Jean Dubuffet, è veramente lo stesso che nel 1954 fotografa l'ingresso di un caffè in un paese dell'Emilia Romagna come una perfetta scena di teatro che potrebbe essere presa di peso e traslata su un palcoscenico di Lucchino Visconti. Ebbene sì, la ricerca sulle potenzialità formali del mezzo fotografico e la registrazione fotografica del quotidiano che Migliori d'altronde non ha mai abbandonato sono, come dice Maggiori, nella sua monografia due facce della stessa medaglia, le due facce di un fotografo integrale. Grazie a tutti, grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.